Quest'anno apriamo delle sale sconosciute e più, che sono le sale eroi, che sono proprio sopra di noi nel sottotetto. Lo scopo è quello di far capire che ci sono tantissimi tesori nascosti. Il FAI celebra proprio questo, si aprono i luoghi anche un po' più particolari delle città, quei luoghi in cui non si era mai pensato, anche magari più delicati a volte, quindi non sempre accessibili, perché le nostre città, viviamo nel paese più bello del mondo, sono davvero piene di tesori e di luoghi da scoprire. Sabato e domenica prossimi verrà celebrata la decima edizione delle giornate FAI d'autunno, una manifestazione che per tradizione consente di visitare luoghi solitamente inaccessibili. Quest'anno l'iniziativa celebra il legame del FAI con la Fondazione Eroi. Sarà possibile visitare parte dell'ascito di alcune collezioni del Marchese Giuseppe Eroi, radunato nel sottotetto di Palazzo Chiericati. Sarà possibile inoltre visitare il Palazzo del Marchese in contrasto a San Marco. Coinvolto anche il comune di Recoaro, prestigiosa meta termale, molto ambita dall'aristocrazia europea nei secoli a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Protagonisti i 45 volontari FAI di Vicenza che accompagneranno i turisti nelle visite guidate. Il gruppo giovane è costituito dai giovani dai 18 ai 40 anni e la voglia che si ha è quella di aprire le porte di posti, di luoghi e di bellezze che di solito non sono accessibili. Cerchiamo ogni volta di far venire i nostri visitatori in delle bellezze che sono anche un po' il sinonimo della nostra provincia. Recoaro sabato e domenica vi accoglieremo lì. È stata fra l'Ottocento e l'Ottocento la più importante e fra le più importanti località turistico termali d'Italia tant'è che fu visitata dall'alta aristocrazia e dall'alta borghesia. Apriremo infatti delle porte, le porte del grottino e delle fonti da cui ancora oggi sgorga l'acqua e poi metaforicamente vi riporteremo nella belle poche. Grazie a tutti.